Non rinnovate l'abbonamento al Fatto Quotidiano. Il Fatto Quotidiano non riceve alcun finanziamento pubblico ma valla a raccontare a qualcun altro. Un po' uscirà anche su di voi un dossierino che dice che avete la vostra isoletta le Cayman con le casette abusive a schiera che le affittate ai Caymani. Ce l'avete tanto su cannot cotta non riceve motivo ma pastore ha, non. Io ne rinodore l'abbonamento. Ich volevo rinnover della geofferà di tutte le questenne che ne rinog Grazie mi Io non rinno az dimensi Non rinnoazz limite? hygiene Grazie a tutti.